Buongiorno, sono Daniele Raggi, Presidente della Commissione Urbanistica, che oggi si è riunita in commissione congiunta con la Commissione Lavori Pubblici e Attività Produttive. I temi all'ordine del giorno oggi erano essenzialmente uno, che è quello del bando delle periferie. E ci siamo soffermati in particolare sui due progetti che abbiamo ritenuto meritevoli di discussione in questa fase, che sono Palazzo Rosso in Piazza Accademia e il Palazzo Pisani in Piazza Alberica. Su Palazzo Rosso la discussione verteva principalmente su una perplessità di ordine progettuale, perché è stata adottata una gabbia a ferro e vetro di cui non siamo del tutto convinti. E vorremmo piuttosto portare avanti un discorso di restauro conservativo, che è più consono all'edificio in questione. E l'altro tema in discussione era lo spostamento delle destinazioni d'uso. Per Palazzo Rosso era prevista la destinazione a casa delle associazioni, mentre per Palazzo Pisani era prevista una destinazione a co-working. Noi vorremmo portare piuttosto le associazioni a Palazzo Pisani, quindi Piazza Alberica, mentre invece il Palazzo Rosso dedicarlo ad alcuni istituti che ce ne hanno già fatta richiesta per i loro studenti. Comunque queste cose sono in serie di valutazione. Stanno andando invece avanti i restanti progetti facendo parte del bando delle periferie, che questo comune ha avuto la fortuna di poter partecipare, essendo passati tutti i partecipanti, quindi c'è il finanziamento.